Quando abbiamo iniziato il terreno era così, una distesa di canne, roveti, di tutto di più. L'abbiamo conteso al malaffare, ma oggi il terreno è così. Comincia a dare i suoi frutti e tutto questo grazie anche all'aiuto delle persone che ci sono state vicino. Oggi questo terreno dà speranza a una comunità, è simbolo di coloro che vogliono provare a farcela. Abbiamo ancora bisogno di voi, se potete darci il vostro contributo. E poi, quando vorrete, passerete qui da noi, vedrete con i vostri occhi e raccoglierete con le vostre mani il frutto del lavoro dell'uomo. Grazie a chi potrà aiutarci.